Anche le arance della salute devono fare i conti con le misure di prevenzione contro il contagio da Covid-19. Così, per la raccolta fondi 2021, i volontari dei comitati regionali AIRC distribuiranno fino a domenica 14 febbraio, su richiesta, vasetti di marmellata d'arancia e miele di fiori d'arancio. In parallelo, a partire da giovedì 4 febbraio, giornata mondiale contro il cancro, le numerose insegne della grande distribuzione hanno donato e continueranno a donare 50 centesimi ad AIRC per ogni articella di arance venduta. Quest'anno, Ferrara, che partecipa come sempre alla raccolta attraverso la ricerca di Unife, ha un posto di primo piano. Infatti, è proprio una ricercatrice ferrarese Elena Dinolfi, professoressa di patologia clinica del Dipartimento di Scienze Mediche dell'Ateneo Estense, a fare da testimonial alla storica campagna le arance della salute per accogliere i fondi destinati appunto alla ricerca. Grazie ai finanziamenti passati dalla Fondazione AIRC, la professoressa Dinolfi ha allestito a Unife un laboratorio di ricerca biomedica nel quale attualmente lavorano tre giovani ricercatrici insieme a lei. Studiano i legami che intercorrono tra lo sviluppo del tumore del colon e l'infiammazione, analizzando i meccanismi molecolari alla base di questi fenomeni. I nostri studi, dice Elena Dinolfi, come si legge sul sito di Unife, si focalizzano sul cancro al colon perché è una metafora perfetta di come l'infiammazione di un organo porta a sviluppare la neoplasia, come si vede, aggiunge, in chi soffre del morbo di Crohn, una malattia infiammatoria che colpisce l'intestino e che è alla base di alcune forme di cancro colorettale. Una ricerca, la sua, che vorrebbe arrivare a scoprire i segnali che predicono l'arrivo del tumore per valutare poi come intervenire con le terapie. Quando nacque AERC nel 1965, l'idea di fare ricerche in questo ambito era considerata ad alcuni una sfida da molto una follia. I soci fondatori, tra cui gli scienziati Umberto Vernese e Giuseppe Dallaporta, hanno accettato la sfida, diffondendo innanzitutto una corretta informazione sulla prevenzione, sulle terapie, sui risultati della ricerca oncologica, poi finanziando progetti di ricerca presso laboratori universitari, ospedali e istituti scientifici, un'attività incessante che è stata e continua ad essere possibile grazie ai milioni di sostenitori, alle migliaia di volontari e ai tanti ricercatori. L'informazione, sostiene AERC, è il primo passo per combattere il cancro, di cui la necessità di suggerire le regole per una alimentazione sana ed equilibrata, la lotta al fumo sulla cognatura cancerogena e nessuno nutre più dubbi, infine l'esaltazione e muoversi, perché l'attività fisica è uno strumento potente di prevenzione.